Adesso mi esce il 2070, ok, ti ho dato 5 euro, in che senso, gaming, ti ho dato 5 euro. No, 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 no. tramite server privati stiamo registrando sui server privati di zar più o meno si dice così ma tanto vi metterò il link descrizione lo taggerò in questo video e ci facciamo partita sui loro server quindi come come sempre mi piace collaborare con tutti i giovani youtuber tutti ragazzini che vogliono spingere vogliono iniziare a giocare quindi seguite anche loro se vi fa piacere andate a farvi un giro sul loro canale e bella ragazzi proviamo questa bella partita oggi siamo con rvs effettato ciao rvs poi diciamo siamo con manu meli e fulvio leo che non può parlare c'è il microfono disattivato riconoscibilissimo da boroi quindi per l'ordine del canale che ci sta ospitando quando vedete uno con la pettorina giallorossa come il lecce giallo come il sole rosso come il cuore ci siamo c'è naborori va bene va a pantano mi piace mi piace pantano mi piace va allora ripetiamo noi collaboriamo con tutti i canali quindi se qualcuno vuole iscriversi al nostro canale lo faccia ci fa un grandissimo piacere se qualcuno vuole fare qualche partita con noi e ha un suo canale lo sponsorizziamo volentieri anzi se facciamo un bel gruppo più siamo meglio è più più canali insiemi hanno più forza se voi calcolate i grandi canali come quelli di zerbian adesso hanno tutti il manager che ho conosciuto personalmente ed è una cosa che mi ha detto lui sponsorizzano poco partire con i giovani youtuber perché li li fanno entrare nel loro team e poi dopo fanno i video tra di loro in modo che ogni video aiuti l'altro ovviamente ora dice naboroi che a che fare spesso con i manager conosciuto vincenzino di del canale di capitan blazer mattiz e tutti loro ho collaborato spesso con enrico bricchi che è il manager di zerbian che hanno fatto quindi sono i team più forti hanno what you factory e poi c'è la corax chiaramente in più vediamo se trovo qualcosa comunque ragazzi io sto sponsorizzando agli altri iscrivetevi al canale di tutti questi bravi ragazzi ma non dimenticate di iscrivervi anche al mio no ovviamente devo sparare sei sempre tu che spari ok siamo ancora in 25 la mappa è bella grande ma dopo sempre crascia c'è la trovo mi ha fatto la gare un botto perché era lui il leader mi ha fatto fare 200 di bing mai fatti 200 di bing si però non dovremmo io 50 di bing perché ero io il leader se fosse stato lui ci avrebbe distrutti così l'altra volta così tutti grazie io volavo a un certo punto non camminavo più ma siccome fulvio dicono che è forte potrebbe andare lui avanti lasciarmi me dietro io vado in avanti scoperta infatti poi è lontanissima la siffra c'è un po di materiali si ma deve risolvere questa cosa la connessione perché una volta è una possibilità ma può succedere ma tutti i giorni crashare la vedo dura cioè non puoi fare manco un torneo non puoi non puoi fare nulla prendiamo il rift vai aspettatemi che io questo stronzo mi metto il muro come io non lo vedo più allora io seguo fulvio 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 facci tu strada che mi sembri quello un po più esperto non mi sa che ci sono persone vicine perché esplosio qualcosa si qua sopra non c'è più l'eserro qua non gesto stanno sparando da sinistra o su destra sento elicottero forse stiamo coperti tanto non ci vedo ma non lo sento più io sì e non lo vedo però un bel cecchino no? sbaglio non c'è niente ahia elicottero sotto l'albero ma non c'è niente Siamo fuori safe Avviciniamo Doveva andare in quella direzione Ha già pingato Fulvio Appena va via l'elicottero ci spostiamo Eccolo sta attaccando Fulvio L'ho sbiancato È atterrato Grande Naboroi ha fatto la kill Un Fulvio Attenzione Dobbiamo aiutare Fulvio C'è uno rimasto Ci sta la E' ucciso Un pochino Per i miei gusti si Fulvio faccio le splash Finisci bene di fare il cosmo Mi prendo il cecchino E' ucciso E' ucciso E' ucciso E' ucciso E' ucciso All'altra parte Ok vai Madò sta laggando E' ucciso Si vede malissimo È mai successo E' ucciso I' ucciso E' ucciso D'ucciso io mi sposto una parte un po più tranquilla siamo fuori safe come andiamo su Manu ok Manu ci sei? hai io salgo su e accendo i cecchini ho il cecchino anche se non si vede malissimo sparano attenzione aiai mi hanno preso con un si lancia Razzi ci hanno Fulmini ha acciso uno mi ha dato un po di vita grande Fulvio mi ha ridato un po di vita bravo consentiti però per giocare non ti preoccupare mi metto qua sotto così sto sotto di voi bravo bravo concentrati allora ricordiamo questo è un video fatto sui server privati di un altro youtuber che metteremo il link in descrizione questa è una bellissima partita siamo oh vediamo vediamo Fulvio non riesco a vedere no vabbè muoio vedo Fulvio a giocare almeno dai vai Fulvio sei tutti noi quanto la schiera di mano non serve perché ormai sei mi sa che sei solo tu forte Fulvio la prima volta che gioco con lui e ce l'abbiamo sul nostro canale attenzione vabbè c'è lo spara bene così ho pensato di non morirla del tutto oh mi sa che se la cava se la cava se la cava se la cava sono rimasti in due eccolo Fulvio il Fulvio è lo sotto sotto quindi se ti servono un po' di armi di proiettili dovrebbero essere attenzione giù eh giù lo vedo giù dove stavo io bravissimo attenzione ai piedi insomma ti spara tramite le gambe c'è madonna la safe è piccolissima ormai eh ecco si sta vicino vai le spalle si 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 uno v uno uno v uno sei Fulvio grande vittoria reale grande grande Fulvio tutti noi Fulvio e tutti noi dai sui server in altro è bello è bello è bello è bello allora seguite i ragazzi grazie al loro server ci hanno fatto fare una bellissima partita iscrivetevi al loro canale e iscrivetevi anche al nostro quindi e un saluto a tutti voi dalla Boroi e alla prossima ciao ciao